Ben ritrovati per l'ultima puntata del Vangelo in casa per questa stagione. Con me c'è Don Angelo Ruspini anche lui in una delle sue ultime puntate nella parrocchia poi magari ci saluterai e saluterai anche i tuoi parrocchiani ma prima vorrei invitarti a commentare con me questa domenica particolare è la domenica della Santissima Trinità al di là del capirla che è impossibile per noi ma che significato ha invece per la nostra vita per la nostra storia cioè cosa vuol dire che abbiamo un Dio che è uno solo ma sono in tre? Per me significa che sono il Padre il Figlio e lo Spirito Santo i creatori della bellezza e dell'armonia non per niente la prima lettura di questa festa parla della sapienza che ha creato il mondo che era presente con tutte queste bellissime realtà create poi la redenzione la salvezza io credo che la Trinità è la bellezza che poi diventa arte diventa pittura diventa splendore del sole diventa i colori dei fiori diventa le razze della dell'umanità diventa la crescita della storia e la Trinità è la contemplazione in piccole cose che noi non sappiamo vedere nella globalità perché ogni cosa dal volto alla pittura tutto è bellezza e tutto è serenità bellezza come contemplazione della presenza della Trinità Gesù però insiste molto anche sulla questione della relazione cioè lui e il Padre hanno una relazione speciale e lo Spirito Santo è in qualche modo l'evidenza di questa relazione quindi come siamo noi in relazione sì perché parla di una relazione perché nessuna creatura creata nel mondo che non sia in dialogo con l'uomo e non c'è nulla dentro nell'uomo che non possa essere dialogante con tutte le realtà che ci circondano quindi quell'armonia tra i popoli che può essere l'unità che può essere la ricerca del valorizzare la storia la cultura degli altri popoli la bellezza e l'ammirazione di tutto quello che può essere l'arte in tutte le sue sfaccettature è sempre una relazione e trovo che lo Spirito Santo chieda che l'uomo abbia un rendimento di grazie a Dio per la relazione perché anche la relazione dell'uomo con Dio fa parte della relazione non solo l'uomo con la storia con l'arte ma anche Dio con l'uomo e l'uomo con Dio quindi in qualche modo fare entrare Dio nella propria storia significa fare entrare il ringraziamento la gratitudine esatto io trovo che la gratitudine viene fatta quando ti accorgi di una ricchezza di una bellezza vai a chiamare l'artista perché ti dia la firma vai a contemplare una mostra perché sai che quell'autore piace per i colori per le forme per quant'altro così il rendimento di grazie è esserci accorto della bellezza che ci abita e metterla in relazione con Dio quindi diventa anche canto hai fatto una descrizione molto poetica ecco dell'esperienza della Trinità direi molto meno fredda di certe ricerche teologiche ecco nella tua esperienza personale questa bellezza l'hai trovata sì ho trovato una una scintilla di bellezza dentro di me ho costruito prima di tutto la mia persona cercando di essere equilibrato per essere un punto di riferimento per per la gente ho cercato di mettermi in relazione con Dio nella liturgia nel canto nella lode spingendo sospingendo la mia comunità la gioia anche nella liturgia sono entrato nella storia del mio territorio cercando di valorizzare tutte le cose belle dall'unificazione del comune fino all'arte esposta davanti alla nostra chiesa e trovo che questa fa davvero la completezza nel limite del possibile di una persona e quindi ho sperimentato questa bellezza quindi lo potremmo considerare un tuo testamento spirituale per i parrocchiani della parrocchia che hai abitato per 30 anni penso di lasciare come testamento anche questo però la mia passione per il signore la mia gioia di parlarne la mia gioia di viverlo vuol dire anche aver trasmesso e questo potrà essere il testamento che non c'è una completezza di gioia se non dentro nella relazione con Dio che è il termine ultimo in fondo le cose umane le lasciamo ci troveremo nella gloria con questa chiusura direi ideale di don angelo ruspini termina qui la nostra stagione del vangelo in casa ci ritroveremo in settembre con un nuovo percorso con nuove persone che ci aiuteranno ad entrare nella parola di Dio buona estate buona estate anche da parte mia